Amici cari, amici generi, ho messo il microfono stamattina per la colazione dal territorio, una bella pizza a portafoglio, guardate qua, e ciò che mi rallegra ancora più è per i taulini, finalmente dopo tanto tempo di tristezza, ecco questa è l'armonia di un locale, i taulini, ma stiamo solo cercando di gente che bene, e io nel contempo mi piego la pizza come di rigore, va piegata, e me la mangio, la salute vostra e la salute mia, e la salute Teresa Ionio, la campionessa del mondo, buona giornata a tutti, lo voglio bene. Com'è Gennaro, com'è? Ma che c'è da lì? Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.